Mamma ho fatto questo disegno per te a scuola, te lo voglio regalare Ma quello scarabocchio, tienitelo pure, potrei vomitare Ma ci ho messo due giorni per farlo Per fare sta cacata? Ma poi io sarei questa? Sì Che buffonata Senti, butta via le matite e le penne perché disegnare non fa per te La maestra mi ha detto che era bello Ma che falsa che è Questo sarebbe il nostro gatto? Sì Non si capisce niente Penso che sia in assoluto il disegno più brutto di sempre Ora muoviti, dobbiamo andare dal dentista Mi farà male Tantissimo, piangerei un sacco e per giorni non riuscirai a parlare